Dubai sta crollando, è notizia del 31 gennaio 2022 che il Ministero delle Finanze dei Mirati Arabi Uniti ha deciso di introdurre una corporate income tax del 9%, ossia una tassazione sul reddito delle società del 9%. Sembrerebbe quindi da pensare, verrebbe da pensare che anche l'ultimo, uno degli ultimi paradisi fiscali alla luce del sole, quindi quelli classici dove in sostanza troviamo il mare e la sabbia perlomeno anche se non è un'isola in mezzo al mare, sia per crollare e quindi vanificando gli sforzi di centinaia di migliaia di imprenditori che da tutto il mondo si sono trasferiti o hanno puntato sull'Emirato per avere una tassazione pari a zero che è il sogno di tutti noi, mi permetto di dire. Ma è veramente così o c'è qualcosina dietro che non ci stanno raccontando fino in fondo? Se hai pazienza di aspettarmi due secondi, te lo dico dopo la sigla. Ciao, sono Luca Tagliatele e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Se non lo hai ancora fatto ti invito a cliccare subscribe e a lasciarmi un like che poi, se non ti sarà piaciuto il mio contenuto alla fine del video, ti invito a levarmi altrettanto generosamente così come me l'hai lasciato. Ma veniamo a noi. Che cosa sta succedendo a Dubai? E' vero che è crollato, sta per crollare uno degli ultimi paradisi fiscali con no income tax at all senza nessuna previsione di tassare nessuno mai per nessun motivo. Bene, non è esattamente come ce lo stanno raccontando. Se hai la pazienza di aspettarmi alla fine del video, avrai il quadro completo della situazione, di quello che sta accadendo. Partiamo con il quando, da quando entrerà in vigore questa corporate income tax, da quando entrerà in vigore questa tassazione del 9% sugli utili societari, delle società incorporate a Dubai. Ebbene, la notizia è che dal 1 giugno 2023 entrerà in vigore una corporate income tax. Questo che cosa vuol dire? Che le società fondamentalmente con l'anno fiscale dal 1 gennaio 2023, per esempio, dovranno pagare le tasse per la prima volta nel 2024 con la prima dichiarazione dei redditi che sarà fatta nel 2025. Quindi il primo advice che mi sento di darmi è keep calm e contate fino a 10. C'è tutto il tempo di mettersi a posto, mettersi in ordine, parlare con i commercialisti, provider, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi insomma non abbiamo paura anche perché alla fine del video scopriremo che poi in realtà c'è ben poco da avere paura. Perché è successo questo? Ebbene, partire da analizzando le cause. Dal mio modesto modo di vedere le cose, le cause principali sono due. La prima è la competizione che Dubai subisce all'interno del Middle East, perché non dimentichiamo che ci sono altri emirati e soprattutto ci sono altri stati, monarchie, all'interno del Middle East che tentano in qualche modo di attrarre anche essi capitali dall'estero, promettendo incentivi, agevolazioni e esenzioni fiscali. Quindi Saudi Arabia su tutti. E voi mi chiederete in questo momento, ma se c'è competizione, la loro le tasse andrebbero abbassate, eliminate per sempre. Ebbene, in realtà non è esattamente così, ma anche questo lo rivedremo tra un attimo. La seconda causa che, a mio modesto modo di vedere, ha determinato questa introduzione di un 9% della corporate income tax è legata alla pressione che ad alcuni organi politici, diplomatici, internazionali, come l'Ocse o la Commissione Europea, tra virgolette, Dubai riceve. Perché in questo momento si trova su una grey list in termini di scambio di informazioni, che cosa vuol dire, che non partecipa in maniera esattamente trasparente all'implementazione di alcune regole legate all'anti-money laundering e all'antiterrorismo. E quindi, chiaramente, le pressioni esterne dicono o se compliance con tutti quanti gli altri stati che applicano queste provisioni oppure noi ti mettiamo nella black list. Se entri nella black list ci saranno dei risvolti e delle conseguenze commerciali più o meno gravi. Questo poi è tutto da vedere. Però questa è la minaccia. Quindi per evitare problematiche, anche in termini reputazionali, facciamo attenzione, perché anche se Dubai, il potere contrattuale di Dubai, lo sappiamo tutti, è molto forte. Quindi diciamo che queste minacce, queste pressioni, sono relativamente, secondo me, efficaci nei confronti dell'Emirato. È altrettanto vero che comunque una bad reputation in termini di immagine invece può causare danni di immagine. Perché, come dire, Dubai è un po' la star dei paradisi fiscali. Quindi è come se qualcuno gettasse del fango su Brad Pitt, no? È più o meno la stessa cosa nel jet set internazionale. La stessa cosa invece è la stessa fama a Dubai è la star dei paradisi fiscali. Quindi una bad reputation non la vuole nessuno. Cerchiamo di analizzare, però, di entrare un attimino un po' più nei dettagli. Cerchiamo quindi di capire come funzionerà questa corporate income tax. Quindi quali sono i principi di diritto tributario che anche le società incorporate nella mainland ci torniamo a dovranno adattare. Ebbene, prima di tutto, la società si considera un taxpayer, quindi soggetto a tassazione a Dubai, si è incorporato e amministrata all'interno di Dubai, numero uno. Numero due, la base imponibile, sarà classicamente la differenza tra recali e costi. E il principio di tassazione è quello del worldwide income taxation, cioè che cosa verrà tassato, tutto il reddito ovunque prodotto nel mondo, da società che hanno, però, lo ripeto, il quartier generale a Dubai e fondamentalmente hanno esercito anche attività commerciali all'interno dell'emiro. Quindi persone e business che vendono B2C fondamentalmente, pensate a tutti i negozi del luxo all'interno dei centri commerciali, Dubai su Dubai. Quelli verranno sottopossi a tassazione. La corporate income tax è progressiva, quindi in realtà non si applica fino a ricavi fino a 300-1002 mila dollari, poi dipende un attimino dal cambio. Sopra questa fascia di fatturato si applicerà la tassazione del 9% e si vocifera, anche perché il Ministro delle Finanze non ha ancora messo decreti o linee guida sull'argomento, un 15% sulle grosse multinazionali cui i ricavi globali mondiali siano superiori ai 750 milioni di euro. Quindi ancora un'altra categoria. Ora rispondiamo alla domanda fondamentale per cui mi hai messo like, ti sei iscritto al canale e mi stai ascoltando, vuoi sapere se è veramente un vantaggio o uno svantaggio. Ritorniamo un attimo a quello che ti avevo detto prima, cioè alla competizione che Dubai subisce all'interno del Middle East. Che cosa abbiamo? Abbiamo il Saudi Arabia con una tassazione del 20%, abbiamo l'Egitto con una tassazione del 22,5%, abbiamo l'Oman e il Kuwait con una tassazione del 15% e poi il Qatar con una tassazione del 10%. Quindi intanto io ho introdotto una corporate income tax del 9 che ancora mi tiene sotto questi paesi e quindi mi mantiene competitivo e comunque più interessante rispetto a quello che mi circonda. Ma in realtà il sistema verrà, non è ancora chiaramente ufficiale al 100%, stiamo ancora aspettando le linee guida direttive, le direttive ufficiali del Ministero delle Finanze, però è ragionevole pensare che questa base imponibile non sarà onnicomprensiva. Facciamo degli esempi. Per esempio i dividendi in entrata che queste società incorporate nella mail dovessero ricevere, piuttosto che plusvalenze da lineazioni di determinati cestini, di determinati asset, tendenzialmente non dovrebbero essere soggette a tassazione. Non ci saranno ritenute withholding tax né sull'inbound né sull'outbound, cioè i passive income, i dividendi, interessi e royalty che entrano, escono da queste società fondamentalmente, non saranno su sottoposti a ritenuta da conto, chiaramente soprattutto quelle in uscita, quelle in entrata, poi dipende dal paese da cui provengono. Tax loss e story forward è un altro punto importante, molto probabilmente ci sarà un sistema tale per cui le perdite, gli esercizi pregressi potranno essere portate in avanti per compensare determinati utili. Vedete qui come vado addirittura ad aiutare le società, perché quelle in perdita ad oggi perdono e non perdevano quella perdita, vedete se tanto non pagavano tasse. Intanto io ho un sistema di perdite che adesso posso riportarmi in avanti, quindi domani che sono inutili, quel 9% non lo pagherò e questo è il primo trucchetto, lasciatemelo passare, anche se poi magari i miei colleghi non saranno particolarmente contenti di questa definizione. Dopodiché si vocifera di un consolidato fiscale, quindi società incorporate all'interno degli Emirati Arabi, ricordiamo sempre quelle che esercitano un business concreto commerciale all'interno degli Emirati, quindi Dubai su Dubai verranno tassate e sarà possibile effettuare un consolidato fiscale, quindi società di un stesso gruppo con utili e perdite compenseranno gli utili e perdite e quindi probabilmente, dipende chiaramente dai bilanci eccetera eccetera, però con un sollievo fiscale di tutto certo. E ancora ci sarà un credito di imposta su eventuali tasse pagate all'estero in determinati fatti specie, quindi vedete come in realtà tramite un sistema di riporto delle perdite, come un sistema di credito per imposte pagate all'estero, in realtà riesco a più che compensare, magari posso anche finire a credito e chiedere quel credito a rimborso, insomma, quindi come dire, le possibilità per una pianificazione fiscale di vantaggio, nonostante una corporate income tax del 9%, sono in realtà molto più che auspicabili, molto più che probabili, mi verrebbe da dire. Le persone fisiche tra l'altro non saranno soggette a tassazione, quindi personal income tax banalmente, se vi date uno stipendio dalla vostra società a Dubai, quello stipendio non è tassato, è abbassa la base imponibile del 9% che si ridù, quindi abbassa i ricavi meno costi, perché vado a creare un costo legittimo al 100%, anche perché senza quel contratto di lavoro con la mia società io non posso avere il visto, quindi facciamo attenzione, qui parliamo di cose legittime al 100%. E dato più importante, quello per cui mi ha aspettato fino ad oggi, era esattamente quello che volevi sapere, è che le frizzone, società incorporate nelle frizzone, non saranno soggette a questa corporate income tax, per cui diciamo le decine di centinaia, se non milioni di imprenditori digitali che si spostano a Dubai da tutte le parti del mondo per incorporare società nelle frizzone, tra cui una parte cospicua dei miei clienti continueranno a non vedersi applicate imposte sui utili delle proprie società. Quindi potete tirare un sospiro di sollievo se non siete un gruppo multinazionale o se non avete aperto un business a mainland, che ne so, una pizzeria a Dubai Marina per esempio, ma anche in quel caso, comunque lo ripeto, gli strumenti di pianificazione fiscale legittimi sono a vostra disposizione. Sono Luca Tagliera Tele, è stato un piacere parlare con voi di nuovo, mi scusavo per l'assenza prolungata, è qualche settimana che non pubblicavo, ma il lavoro è tanto, ti invito a lasciare il like a questo punto e noi ci rivediamo nel prossimo video.